Reparti in affanno, soprattutto negli ospedali del Bareza e del Foggiano, a causa della carenza dei posti letto. L'incremento dei contagi e dei ricoveri sta creando un'emergenza nell'emergenza. A soffrire sono le strutture sanitarie, molte delle quali prese d'assalto da persone con sintomi riconducibili al coronavirus e che spesso rischiano di attendere a lungo in alcuni presidi, anche oltre le 24 ore, prima che si liberi un posto per il ricovero. Per questo la Regione ha deciso di passare alle contromisure. Ieri, in una riunione tra l'assessore alla sanità Pierluigi Lopalco e i direttori generali delle Asla Pugliesi, è stato deciso di prorogare la sospensione dei ricoveri ordinari nelle strutture sanitarie per permettere una riorganizzazione dei reparti che coglieranno i pazienti covid. Stop all'attività ordinaria, quindi, ad eccezione di casi urgenti, malati oncologici e parti. Contemporaneamente è scattato il piano sanitario che porterà ad un ampliamento dei posti letto dedicati alle persone colpite dal virus. Al Policlinico di Bari, saturo di pazienti positivi, con i malati dirottati all'ospedale Vittorio Emanuele II di Biceglie e al Miulli di Acquaviva delle Fonti, si attende l'attivazione di ulteriori 50 posti letto nel padiglione Balestrazi. Questa mattina ha invece aperto il nuovo reparto covid all'ospedale Perinei di Altamura, attivi i primi 20 posti letto che entro una settimana dovrebbero diventare 60. Si prepara la riconversione anche l'ospedale Sarcone di Terlizzi che sarà destinato a breve all'assistenza post-coronavirus. Gestione difficile anche a Foggia per via dell'elevato numero di malati che affollano il Policlinico Riuniti. La situazione sarà alleggerita grazie ad un centinaio di posti covid predisposti all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo che tuttavia al momento non sono ancora stati attivati. Meno in affanno le strutture ospedaliere di Lecce, Taranto e Brindisi ma l'attenzione resta alta. Per questo la sanità affila le armi e si prepara ad affrontare un possibile picco dei contagi atteso nelle prossime settimane.